Alla scoperta di Mario, un robottino progettato per aiutare i malati affetti d'Alzheimer lieve. Il robot è arrivato al CNR di Catania qualche mese fa e adesso iniziano i test con i pazienti all'interno di strutture ospedaliere, case di riposo e abitazioni private. Ciao. Come ti chiami? Mi chiamo Mario. Mi ricordi che giorno è oggi? È lunedì 14 novembre 2016. Sapresti dirmi che ore sono? Sono le 10 e 7 minuti. Grazie. Prego. Mario può telefonare, leggere notizie, ricordare gli orari dei passi o delle pillole, dialogare con il paziente, aiutarlo a riportare alla mente i ricordi personali e monitorare il loro stato di salute per calcolarne il livello di demenza. Uno strumento per facilitare e snellire l'idero ospedaliero adottato al momento. Il programma è stato finanziato con 4 milioni di euro dal programma europeo Horizon 2020. Vorrei ascoltare un po' di musica. Avvia riproduzione. Eseguo i drani musicali. Eseguo i drani musicali.